E' bella a tutti ragazzi, sono Gilbrega e sono qui oggi per annunciarvi un bel po' di cose Vi ricordo che due ore in avanti streamerò praticamente tutti i giorni o alle 6 o alle 8 e mezza o 9 Comunque ve lo dirò il giorno se sono nelle storie Instagram Se non mi seguite basta che cerchiate Gilbeu con due con l'h finale su Instagram O comunque trovate il link in descrizione e basta che mi seguiate e guardate le storie Io dico sempre lì quando gioco, quando streamo e se streamo magari con gli iscritti o cose del genere Oggi partiranno ufficialmente i reclutamenti per il nuovo team che voglio formare Il team sarà composto da gente non essenzialmente fortissima Non ho posto requisiti altissimi I requisiti ve li sto per dire Prima di partire però vi dirò mentre mi alleno un attimo in creativa Vi ricordo che se volete supportarmi potete farlo digitando Gilbeu Con l'h finale qua su supporto a un creatore e ogni acquisto che farete supporterà anche me Allora direi che possiamo partire e poi pian pianino vi spiego tutti i requisiti e cosa dovete fare Allora raga essenzialmente io ho deciso di dare praticamente possibilità a tutti in qualche modo di fare dei provini I provini li farò nelle live che faccio io durante la sera o alle 6 Quindi prima cosa se volete innanzitutto partecipare ai provini dovete assolutamente seguire le live Perché se non seguite le live non potete sicuramente partecipare perché non siete gente che mi segue spesso E quindi non sapete nemmeno quando faccio i provini e quelle cose lì Poi infatti ho deciso di dare la possibilità a tutti In che modo? Allora la prima selezione che farò sarà una selezione in base ai video che caricherete voi sul vostro canale o quello che avete Infatti la prima cosa che vi chiedo è di caricare qualche vostra clip Qualche bella giocata che avete fatto Ovviamente se siete da pc potete pure lo share L'importante è che non registrate col telefono perché non vorrei bruciarmi gli occhi Talmente sono brutte le clip fatte col telefono Comunque prima cosa dovete caricare un video In cui mostrerete appunto le vostre migliori clip le vostre migliori giocate E dovrete mettere un titolo che volete E poi scrivere Hashtag GilbeRC Tutto maiuscolo Gilbe è scritto G-I-L-B-E-R-C La C normale di Cremona Mettete il titolo che volete E poi hashtag GilbeRC Io me li guarderò Un giorno mi metto lì e me li guardo un po' E non è che io poi semplicemente vi scriverò su insta Comunque vi dirò Vi dirò di Vi commenterò il video dicendo Di scrivermi su insta E in qualche modo ci metteremo d'accordo per fare il provino Se lo riterrò opportuno Quindi questo qua è sostanzialmente il primo metodo per partecipare All'RC Per partecipare ai provini in live Il secondo metodo è Quello di Avere delle statistiche decenti Io ho cercato di non mettere troppo alte Perché se no so che tanti di voi non potranno partecipare Perché la gente ora Come ora sta tryardando malissimo Su Fortnite E quindi avere un rateo decente è bello bello difficile Ho messo due tipi di ratei Ho deciso di mettere Come rateo minimo per fare i provini Questa qua è un altro tipo È un altro tipo di selezione Oltre a quello del video Se fate un video in cui mostrate che sapete giocare Sapete cosa Sapete padronare la costruzione Gli spari Quelle cose lì Io vi vedrò Semplicemente che potete o non potete Partecipare Durante i provini nelle live Un altro metodo è quello che vi stavo spiegando adesso Che è quello del Semplicemente guardare le statistiche Io non sono una amante delle statistiche Perché non le reputo effettivamente Il miglior modo per valutare un player Comunque io guarderò Solamente Le statistiche in duo E squad Quelle in solo non mi interessano Perché se sei Io provo a fare un team Con il quale giocherò in squad E in duo Quindi che voi siete forti in solo Si mi interessa Ma non più di tanto Quindi darò molto più peso Alle statistiche in squad e duo I requisiti che vi dicevo minimi sono Appunto di avere almeno Rato di 1 e 70 O 60 Dai facciamo intorno ai 60 Su PC e Xbox E almeno rato Facciamo 1 e 50 su PC Visto che la gente Io ho giocato sia a Playstation sia a PC E non c'è E' imparagonabile Ditemi pure quello che volete Ma è imparagonabile giocare Su PC e su Playstation In base alla gente che trovi Quindi ho deciso di fare questa distinzione qua Poi altra cosa importante Sono le win Perché io voglio fare un team Che punterà a vincere tante partite in live Perché Il team Sarà principalmente per fare le live Quindi giusto perché voglio intrattenere Maggiormente Nelle live voglio portare gameplay di qualità Durante le live Quindi mi serve gente che sappia giocare bene E sappia vincere Sappia cosa vuol dire vincere Quindi ho deciso di mettere come Non sono tante vittorie Cioè io ad esempio ho 300 pass di vittorie Che non sono nemmeno tante Però ho messo come soglia minima Per partecipare ai provini Ho scelto di Ho scelto 150 vittorie In Playstation Xbox E almeno 100 Che in realtà sono pochissime 100 però su PC Quindi ho scelto Ho scelto requisiti Minimi anche perché Questa qua è solo una preselezione Poi la selezione la farò Nelle varie live Facendo i provini Quindi questi qua sono solo preselezioni Poi è ovvio che se Ho dato anche la possibilità A quelli che magari Non sono forti O comunque non hanno le statistiche adatte Non caricano il video Ma non lo ritengo abbastanza forte O altro Do ancora la possibilità Di partecipare ai provini A tutti coloro che sono sponsor Quindi ovviamente supportano il canale Hanno piacere di fare un provino Io sicuramente glielo farò fare Quindi Se vi reputate Non abbastanza all'altezza Non avete le statistiche abbastanza alte Però volete Avete il piacere di fare un provino Io sicuramente A tutti quelli che Fanno la sponsor Do la possibilità Giustamente Perché Mi supportate Che è la cosa che Effettivamente Mi aiuta di più Con le live Perché Ricordate che io Devo pagare almeno 40 euro Al mese Di connessione Per streamare Quindi Se c'è qualcuno che mi supporta È giusto Sono anche felice Felice di fargli il provino Anche perché Giustamente mi supporti Voglio dare qualcosa in cambio Un altro requisito Che Regà È una cosa Serissima Che magari per qualcuno Non sarà serissima Ma lo è per me È avere Regà Un microfono decente Tutti coloro che Anche se avrete 5 di rato Ma non avete un microfono decente Per me Siete Non 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 possibili Non possibili membri del team Perché io Con questa gente qua Con questo team qua Voglio streamare E non posso Non posso streamare Una qualità audio bassa Io voglio Voglio gente che Non mi serve Non mi serve che abbiano Qualità audio Assurda Mi serve semplicemente Che abbiano delle cuffie O degli auricolari Che non facciano rumore Non voglio gente che Che Si senta rimbombo Non voglio gente che Alla quale Fischi il microfono Cose che Ovviamente Io devo fare per forza Perché devo Devo streamare Quindi offrire un servizio E voglio Farlo Ad una qualità Alta Poi Regà Se avete Io ho pensato Questi qua come Ho pensato a questi requisiti qua Come preselezione Se voi Pensate che ce ne possa essere Qualcosa di Di più sensato Fatelo sapere pure Qua sotto nei commenti Io per esempio Non ho mai seguito Nessuno youtuber Che facesse i provini Quindi Non so nemmeno Loro che requisiti Mettessero Comunque Se voi magari ne seguite qualcuno E sapete che hanno messo Dei requisiti Che secondo voi Sono sensati Fatemelo sapere Che magari A giorno anch'io Altra cosa Io Lo reputo Stupido Fare I provini In solo Versus due Guardando solo L'amico O chi per esso Lo trovo stupido Perché io sto cercando Gente che sappia A giocare in team Quindi I provini saranno fatti Nelle live Ma giocando insieme a me Perché Non è che A me Che tu sia forte o meno Interessa Sì ma in parte Che tu sappia fare solo Versus squad Mi interessa ma In parte Io voglio che tu sappia fare Squad versus squad Voglio che tu sappia Fare gioco di squadra Quindi che tu sappia Giocare in solo Versus duo Solo Solo versus squad Mi interessa ma Preferisco che tu sappia Ehm Giocare in squad Quindi dividere le cose Divide le munizioni Sappia essere generoso E altre cose Che determinano Che mi fanno capire Se effettivamente Tu sei un possibile soggetto Che può interessarmi o no Altre cose Io penserò Io penso molto probabilmente Di Io penso molto probabilmente Che il nome lo farò scegliere In comunità Quindi Insieme Agli altri membri Quindi prima di scegliere Un qualsiasi nome Voglio Voglio che appunto I membri Se non già siete scelti Poi E poi ovviamente Daremo appunto Il nome Il nome del clan Altra cosa Un requisito necessario È appunto La possibilità Di cambiare Il nome Del vostro account Perché nel momento In cui giocheremo Insieme col team Voglio E pretendo ovviamente Che Che Le persone Che tutto il team Abbia lo stesso Lo stesso tag Il clan Quindi Ci chiamassimo Che ne so PG Vorrei che tutti ci chiamassimo PG Gilbe PG Non lo so E PG Tutti PG Per esempio Sono esempio stupito Però Tutti così Quindi dovete avere La disponibilità Di cambiare nome Io niente Spero di Di aver detto tutto Nel caso In cui mi renda conto Nel montaggio Di aver dimenticato qualcosa Ve lo faccio sapere qua sotto Nei commenti O comunque ve lo faccio sapere In live Molto probabilmente Stasera Streamerò Verso le 8 e mezza Quindi Se qualcuno vuole Se qualcuno vuole Partecipare Già ai provini E Sappia che Verso le 8 e mezza Streamerò Quindi Vi conviene venire Perché prenderò Anche magari qualcuno Tra i commenti Magari sponsor Roba del genere Allora raga Io spero che questo video Vi sia stato utile E niente raga Ci becchiamo direttamente Magari A un prossimo video O stasera in live Se venite Guardalo qua Marekinski Marekinski Uuuu Marekinski è Rispetto a me E va là Niente raga Ci becchiamo Bella raga Suali Suali Suali